ciao a tutti cari amici dello scrigno dei segreti tv in questi giorni non si sta parlando d'altro che di una delle coppie che ha fatto più discutere di tentation island si tratta di quella formata da lino e alessia ad oggi il ragazzo è ormai single e starebbe frequentando la tentatrice maika al di fuori dal programma ma vediamo i cambiamenti di maika negli ultimi anni partiamo con una foto della tentatrice da bambina con i capelli mori e nonostante le poche foto possiamo notare anche dei grossi cambiamenti che secondo alcuni sarebbero dovuti al chirurgo plastico che ne pensi